Non c'è più caffè! Che dirà il signor Nino? Che si aspetta l'olito fresco! Chi è? Pacco doppio la Batta Club? Sì, due pacchetti insieme e più convenienti! Così, mai più senza caffè! E meno male che ci ha pensato la Lazza! Una bella idea, eh! E in regalo la bellissima caffettiera Carmencita, raccogliendo 100 punti sulle confezioni multiple! Omino Bianco Super, insuperabile a tutte le temperature! Io lo uso a 30 gradi! Per questa macchia di caffè aggiungo Omino Bianco Super e... Via la macchia e i colori sempre brillanti! Io lo uso anche a 60 gradi! Per questa macchia di vino Omino Bianco Super smacchia e sbianca di più! Io lo uso persino in acqua fredda! Per le sue tutine colorate aggiungo Omino Bianco Super e la macchia di frutta ha sparita! E i colori come nuovi! Omino Bianco Super, insuperabile a tutte le temperature! Io ho a che fare con tanta gente e quando ho fame divento scontrosa! Quando hai fame scegli qualcosa che sia anche buono! Mi mangio una fiesta e tutti tornano amici! Mangia una fiesta e la vita ti sorride! Anche su Fiesta trovi i punti di Vinci Campione! Tende da sole, arcuati! Scelta dei modelli, soluzioni, tessuti, colori illimitata! Costo dell'installazione, zero! Assicurazione contro furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, gratuita! Imitazioni tentate, innumerevoli! Imitazioni riuscite, nessuna! Solo le tende per interni e per esterni arcuati sono firmate arcuati! Crackers, motta, buoni, tanti! E oggi, lancetti! Posate per due! Come? Punti! Tanti? Pochi! Crackers, salatini, biscotti e pan croquet motta regalano grangalà lancetti! A chi mangia motta non restano solo le briciole! Silenzio! Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio, che gli passi in un momento! Qualcuno ha un moment? Sì, io! Contro mal di testa e nevralgie, moment! E rapidamente ti passa, dai laboratori farmaceutici Angelini. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? Campario's Fantasy Corre l'Europa dell'industria, della finanza, della borsa. Italia oggi corre con l'Europa. Tutti i giorni, Italia oggi corre con l'Europa. Ehi, se qualcosa ti va, dai, se è leggero tu sei, allora prendi la vita al volo, prendila! Sì, sì, la cosa ti va, dai, dai! Leggero tu sei, allora sempre la vita ti sorride! Leggero così, sì la vita è così, è bello vivere con Pavesini! Pavesini, sentirsi leggeri e sentirsi vivi, buoni e leggeri senza aggiunta di grassi. Un gruppo di giovanissimi fisici penetra nel mistero dell'energia atomica. Enrico Fermi, Ettore Majorana. Una storia vera che è diventata leggenda. Sono passati tanti anni, l'energia atomica ha cambiato il mondo, ma un giallo resta ancora inquietante. Perché il giovane e geniale Majorana sparisce senza lasciare traccia? Quale segreto è racchiuso nella sua scomparsa? I ragazzi di Via Panisperna. Un film in due parti di Gianni Amelio. Domenica 20 e 30, Rai 1. Un film in due parti di Gianni Amelio.